Palla 2 che viene alzata proprio in questo momento dal primo arbitro dell'incontro Puccini a rimbalzo, già spinge sulla transizione per Micoli che prende il catch and shoot da 3 punti intanto Parmesani ad attaccare in 1 contro 1 di forza contro Milazzo che le deve dei centimetri Luca arriva in lunetta, il tiro cadendo indietro di Natali allo scadere dei 24 adesso Washington che prova a trovare Dedic per il primo canestro dalla media distanza Kaczmarcic ancora per Washington che va subito in 1 contro 1 fino in fondo ad appoggiare doppio blocco Milazzo che penetra e scarica per Kaczmarcic che si alza da 3 punti e mette la tripla che non segnano più da un paio di minuti qui, bellissima palla in transizione per Treffers rimbalzo controllato da Bucchetti che spinge sul contropiede, tiro a 3 punti preso e realizzato la giocatrice di Luca 14 a 9 più 5 comunque per la formazione ospite qui l'1 contro 1 di Guarise poi comunque solo sotto di 2 punti, qui la palla dentro per Pastrello Luca però 4 su 12 per un 33%, Sammartino però solo un 21% qui di nuovo la palla nelle mani di Washington, blocco di Kaczmarcic Washington che si prende il palleggio, arresto e tiro anche la palla che arriva in ala per Natali che prende il palleggio, arresto e tiro Washington permette il recupero da parte di Luca con Natali e si prende la tripla in transizione blocco poi di Gili, ancora Bucchetti in 1 contro 1 col penetro e scarica per Morrison che si prende il palleggio, arresto e tiro, solo 4 punti in quasi 5 minuti di gioco qui bella palla sotto per Pastrello, Morrison a recuperare rimbalzo, palla dentro bella per Micoli torna nelle mani Milazzo, blocco per Kaczmarcic, ancora Milazzo col palleggio vivo fino in fondo ad appoggiare di Tavellone che torna in angolo, ancora fuori per Pastrello non c'è stato ribaltamento di lato, paglia la conclusione, Milazzo a rimbalzo subito a springere in transizione, la palla in backdoor per Washington dall'altra parte subito in 1 contro 1, le finte di Milazzo, la palla sotto per Dedic palla per Milazzo, in angolo per Dedic che fronteggia il canestro, si prende il tiro da 2 punti di nuovo Bucchetti che riceve palla, poi lo step back di Bucchetti da 3 punti che vuole giocare in 1 contro 1, ribaltamento di lato per Bucchetti che si alza da 3 punti altra tripla quando comincia a mettere tiratrice di striscia quando comincia a metterne 1 comincia a metterne più di 1 con l'1 contro 1, chiude il palleggio in lunetta, torna fuori la palla per Parmesani che si alza e segna la tripla, qui ci prova Parmesani con l'1 contro 1, la virata il tiro cadendo indietro, non ha ancora costruito niente però Luca adesso prende il palleggio il resto del tiro, Natali, Milazzo che aspetta il movimento delle compagne il backdoor di Washington, classico gioco, palla che si muove intanto arriva nelle mani di Dedici che si gira e prende il tiro Bucchetti col palleggio vivo, palla in punta per Miccoli che prende il tiro zona che persiste in Lucca, si prende la responsabilità di una tripla che va a segno di Lisha Washington buon movimento di palla qui nell'attacco di San Martino ancora la pressione difensiva di Washington la palla però dentro di Miccoli per Treffers ancora Morrison col palleggio vivo Natali che non ci pensa due volte, si alza da 3 punti ribalta fuori, la palla arriva a Verona che si prende il tiro a 3 punti sbaglia ma velocissimo rimbalzo, Pastrella Dici bene, lavora proprio per qua bellissimo l'assist va da Parmesani Parmesani che cerca il taglio di Natali bravissima a tagliare dietro all'anticipo con la palla per Treffers che parte in 1 contro 1, si appoggia al tabellone per incitare i propri giocatrici, qui l'1 contro 1 di Washington che di forza accorgimenti del coach ma infatti segue comunque i consigli dategli anche se e in questa partita sono quei 5-6 possessi che alla fine intanto finta il tiro a 3 punti tornano a Treffers Treffers che dovrà forzare perché mancano 4 secondi si alza e realizza un commentatore dice tiratrice ottima ai liberi l'1 contro 1 di Milazzo sotto la palla per Russo che realizza il canestro che cerca di andare da Parmesani poi la palla arriva sotto bellissimo va sul lato destro l'1 contro 1 di Morrison che appoggia Di Bocchetti che dovrà forzare perché stanno scadendo i 24 secondi e realizza 52 a 71 già Washington dall'altra parte è difficile riportarsi a casa la partita ci prova lo station Washington ritorna sul suo blocco Milazzo che poi si alza e prende il palleggio arresto e tiro poi c'è il blocco Morrison che va in 1 contro 1 lo scarico interno per Treffers finisce così allora a San Martino di Lupini la quarta giornata della Serie 1 targata Tech Final